Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo sabato, buonasera, benvenuta a Vital Bazzolini, giurista e editorialista del Quotidiano Domani. Buonasera Luca Ricchelli, direttore del reparto di Pneumologia alle Gemelli di Roma e membro del Comitato Tecnico Scientifico. Buonasera Luca Telese, giornalista e buonasera Paolo Mieli, editorialista del Corriere della Sera. Allora, secondo il Censis l'80% degli italiani è favorevole anche alle ultime restrizioni molto severe per le feste di Natale, però dicono anche di essere più tristi. C'è però anche chi grida alla rivolta contro il Presidente del Consiglio Conte. Subito dopo la pubblicità. C'è però anche chi grida alla rivolta contro il Presidente del Consiglio Conte. Prenderemo le festività natalizie con misure restrittive più severe. Il Presidente del Consiglio un mese e mezzo fa però aveva detto facciamo ora dei sacrifici per poter passare un Natale sereno, ma è successo esattamente il contrario. Era diciamo ineludibile inasprire ulteriormente le misure? Intanto io penso che il Natale lo passeremo in maniera più serena di quanto potessimo prevedere di passarlo un mese e mezzo fa, quando ricordo avevamo un aumento esponenziale dei contagi, avevamo gli ospedali che si avviavano verso una pressione notevole. Adesso soprattutto la pressione sugli ospedali si sta riducendo e si sta stabilizzando. Più che restrittive le misure sono proporzionali a quello che vediamo. Abbiamo ancora un numero di decessi molto alti, abbiamo una percentuale di tamponi che si è stabilizzata ma che non tende ancora a calare. Quindi direi che ci avviamo verso una stagione in cui è difficile evitare proprio il rischio che è quello di stare in locali chiuse ed affollati. L'inverno sappiamo questo e le feste rendono questo più probabile. Quindi secondo me sono misure che in questo momento sono assolutamente inevitabili per cercare di mantenere la pressione sugli ospedali in riduzione come in questi giorni. Ma anche per evitare una terza ondata? Sulla terza ondata soprattutto sarebbe da evitare una terza ondata. Ricordiamoci che abbiamo paesi che ne guardiamo come molto evoluti da un punto di vista sociale e anche da un punto di vista di sistema sanitario come il Giappone che lo stanno in questi giorni, stanno avendo l'esperienza di una terza ondata. Quindi certamente immagino che queste misure siano prevalentemente rivolte a ridurre la pressione sugli ospedali nella stagione invernale ma anche ovviamente a evitare che sia una ripresa epidemiologica nei prossimi mesi. Dottoressa Zazzolini, lei non sembra far parte di quell'80% di italiani che è favorevole a queste ultime restrizioni. Lei ha scritto che manca solo la norma sulla tombola con i numeri dimezzati per farla durare di meno. Ma allora, al di là del tweet ironico che ho scritto qualche giorno fa, il punto è questo. Non si tratta di essere più o meno a favore delle restrizioni del Presidente del Consiglio, del DPCM natalizio. Diciamo che si tratta di avere poco chiara in taluni momenti la logica che ispira a certe misure. O meglio, gli ultimi provvedimenti, quindi il decreto legge del governo del DPCM, hanno un impianto chiaro. Consentire un allentamento delle misure prima delle feste. Mi riferisco in particolare al fatto che gli esercizi commerciali potranno stare più aperti. No, no, vada, vada. Scusate. E invece questo ultimo? Mi riferisco ad esempio al fatto che gli esercizi commerciali, i negozi, potranno stare più aperti. E quindi comunque si tutelerà l'interesse economico, sostenendo l'economia del Paese. Durante le feste, prevarrà invece la tutela dell'interesse alla salute. E quindi scatteranno tutte le prescrizioni che ormai conosciamo, quindi i limiti dello spostamento fra regione o addirittura fra comuni nei giorni del 25, del 26 e del primo di gennaio. Allora, al di là di questo, che può essere opinabile, cioè il fatto che comunque fino a un certo giorno prevalga più l'interesse all'economia e dopo l'interesse alla salute, ci sono proprio misure che di per sé paiono poco congre. Ad esempio, impedire lo spostamento fra comuni il giorno di Natale. Che cosa potrà comportare? Che persone che vivono in comuni diversi e che fino al giorno prima, quindi fino alla vigilia, potevano incontrarsi, non potranno stare insieme il giorno di Natale. Magari sono use frequentarsi tutti i giorni dell'anno, ma il giorno di Natale non lo potranno fare. Aspetti, la fermo, perché questa intanto è una contraddizione, una norma che è stata molto criticata non solo dalle opposizioni Luca Telese, le opposizioni continuano a dire che Conte ha rubato il Natale agli italiani. Però questa norma che prevede il diveto di spostarsi tra un comune e l'altro il 25, 26 e il primo gennaio, in effetti si capisce o non si capisce? No, non si capisce. A me non mi preoccupano le opposizioni negazioniste che contestano radicalmente. Sono molto d'accordo invece su Azzolini, sulla logica. L'esempio che ha già fatto lei, ma ne dico un altro, perché io non posso andare a trovare il mio zio novantenne, il zio Donino che sta ad Ales in Sardegna, se per esempio mi faccio un tampone? Cioè potevano porre una condizione, una garanzia. Lo posso fare sempre, non lo posso fare quel giorno perché lo Stato ha sfiducia in me ed è sbagliato. Bisogna puntare sulla fiducia delle persone, sulla responsabilità, non sul divieto astratto di natura repressiva. Gli italiani hanno dimostrato di poter essere responsabili, ma quando capiscono la logica e quando capiscono che non si può fare a meno. Perché se io mi faccio un tampone, risulto assolutamente negativo e vado a trovare come potrei fare tutti gli altri giorni dell'anno, mio zio, mio nonno, mia madre, mio padre, non sto facendo correre un rischio a nessuno, men che meno a lui. E ovviamente gli italiani pensano ai loro cari, quindi quando io vedo la stupidità, quando vedo il burocraticismo, mi spavento perché questo non ci aiuta. Tra l'altro stamattina il governatore della Lombardia dice attenzione perché può esserci un mega esodo al sud, allora se si fa il contenimento sul nonno e poi abbiamo i 30.000 che si precipitano dalla Lombardia in Puglia o in Sardegna o in Calabria o in Campania appena si aprono i calcelli, attenzione che corriamo il rischio di non ottenere un risultato positivo. Allora Paolo Mieli, lei che idea si è fatto? Non c'è tanta logica in queste ultime restrizioni per le feste natalizie, cosa la colpisce di più? Pensa che tutto sommato chiedere agli italiani di fare anche questo sforzo in una festa diciamo così sacra come quella del Natale è assolutamente accettabile? Penso che sia accettabile, io mi aspettavo che si facesse addirittura come in Israele che nei giorni delle festività hanno fatto un lockdown completo per chiarire anche loro Proprio per evitare assembramenti Per evitare queste cose che così tagliavano la testa al toro perché sia le obiezioni di Vital Bozzolini che quelle di Luca Telesi sono sensate ma sempre quando uno prende dei provvedimenti drastici è a ragione, diciamolo con coraggio A dicembre si è fatta un'eccezione perché non si dicesse l'alternativa è fra l'economia, il diritto alla vita, il diritto alla salute ma anche quello a campare Insomma si è provata a fare un'eccezione correndo dei rischi perché ricordiamoci tutti che a Milano appena si è riaperto senza voler criminalizzare la mia città però brum, la gente si è riversata e tutti sono rimasti un po' stupiti quindi questa è una risposta che vorrei dare a Luca Telesi ha perfettamente ragione, io di incongruenze e anche alcune ridicole ne potrei citare 4.000 però stiamo facendo un Natale sacrificato e in fondo possiamo anche andare fieri di non andare a trovare lo zio, il nonno capirà perché anche lui guarda la televisione, anche lui legge i giornali anche lui ha paura, anche lui quelle visite insomma è costretto a dirtelo Luca che lui sarebbe contento che tu andassi ma in realtà è ben felice che tu non ci vada perché metti che gli attacchi il Covid l'alternativa è pessima quindi io non penso a questi vecchietti che desiderano solo abbracciare i nipotini capisco, ma no, ma lo faranno dopo se le cose vanno meglio a gennaio, febbraio, marzo cominceremo gradualmente a rilasciarsi sai quante abbracciate di nipotini si potranno fare? ma proprio adesso bisogna farlo lo so, a Natale io poi non festeggio particolarmente il Natale sbagli, sbagli, sei secolarizzato eh? non ho capito sei secolarizzato perché secondo me il punto del Natale cioè la battuta di boccia infelice Gesù Cristo può nascere anche due ore prima è proprio un errore culturale ma è vero se si dà la fiducia e se si usa la responsabilità si difende e si impedisce il nemico più grande che non è la trasgressione il nemico più grande è lo sconforto è la gente che non si alza più da casa sono le pantopole a vita e il fatto che quelli che vendono abiti, moda ci dicono che si comprano solo tutte i pigiami attenzione a questo però se uno può dire guarda ti verrò a trovare il 15 gennaio fermo restando che anch'io sono d'accordo che la battuta di boccia quella Cristo può nascere ma no ma è chiaro che il ministro intendeva dire dobbiamo anticipare la messa di Natale che non l'avrei tirata fuori per questo però insomma il senso religioso del Natale non va offeso dopodiché invece io parlo delle abitudini delle persone che religiose non sono rinviare di 15 giorni la visita allo zio o al nonno 20 giorni non è una tragedia ma insomma rispetto certo professor Richeldi cosa le sembra questo dibattito che è diciamo quello che anima anche tante famiglie italiane e scusi voglio aggiungere anche una cosa siccome prima poneva una questione molto seria Luca Telesi diceva ma se io faccio il tampone e poi vado a trovare i miei cari quello è già una garanzia non per i liberi tutti ma intanto ho un elemento diagnostico in più e so che ce l'ho o non ce l'ho poi starò attento in attesa che eventuali incubazioni sia finita ma come si suol dire lei si è fatta la domanda e si è data la risposta ci facciamo tutti le stesse domande il tampone intanto non rappresenta un elemento diagnostico con un 100% di sicurezza come tutti i test diagnostici secondo il tampone fa una fotografia fa una fotografia di quel momento quindi purtroppo non ci cambia niente nei comportamenti e nelle attenzioni che dobbiamo avere cioè non è che il fare il tampone prima di vedere una persona necessariamente ci dia una garanzia totale di proteggere quella persona soprattutto se quella persona è una persona vulnerabile ricordiamoci ancora una volta che i quasi mille morti che abbiamo tutti i giorni sono persone che hanno un'età media di 80 anni e che però rappresentano per un 10% persone che hanno meno di 65 anni quindi la popolazione vulnerabile chiaramente sappiamo qual è ed è una popolazione che va protetta il fare il tampone prima di vedere una persona non ci dia una garanzia assoluta io sono molto d'accordo con quello che diceva prima il dottor Mieri cioè col fatto che questo rappresenta un sacrificio ragionevole razionale e che mi sembra difficile da non fare soprattutto calcolando le potenziali conseguenze che potrebbe avere ma tra farlo e non farlo il tampone è meglio farlo certo tra fare e non farlo è meglio farlo ammesso che questo però non modifichi i nostri comportamenti cioè se Luca Telese facendo il tampone si presenta dalla zia senza la mascherina questo potrebbe essere un problema Dottoressa Zollini lei teme anche che si possa ad un certo punto scatenare la rabbia dei cittadini questo più di uno l'ha addirittura pronosticato nei mesi scorsi nelle scorse settimane dove vede dei segnali pericolosi? Allora innanzitutto dobbiamo dire una cosa abbiamo parlato finora dell'opacità circa la logica di alcune misure e quindi va detto che le regole di cui si fatica appunto a capire quale sia la razza o la logica sono quelle che poi si fa anche più fatica ad osservare e quando si tratta di regole giuridiche chiaramente questo è un rischio dall'altro lato dobbiamo dire ai cittadini come lei ricordava giustamente all'inizio era stato in qualche maniera promesso che se si fossero comportati bene con una sorta anche con una sfumatura paternalistica che per certi versi è un po' fastidiosa era stato promesso loro che sarebbe stato un Natale più sereno quindi facendo capire che probabilmente alcune misure sarebbero state allentate e invece ci ritroviamo a Natale comunque con delle misure restrittive quasi tutte le regioni si stanno avviando ad essere gialle circa gli spostamenti abbiamo delle regole come se fossimo in realtà delle zone rosse quantomeno per lo spostamento appunto tra però mi scusi la interrompo un attimo dottoressa Zollina perché in fondo diciamo lei dice troppo paternalismo però è vero che la scorsa estate non abbiamo non siamo stati proprio molto lì ai nostri doveri c'è stato una specie di liberi tutti che ha provocato dei grandi grandi danni stiamo pagando le conseguenze ancora adesso quindi forse ci vuole anche in una situazione di questo genere uno stato un po' più paternalistico un po' più un po' più normativo allora guardi il punto è questo se ci sono state tante persone o alcune persone che non non hanno conformato i propri comportamenti alle precauzioni ordinarie e necessarie ci sono tante altre persone che invece sono state lì già le regole e sono lì già le regole dal mese di febbraio il tentativo di spostare sui comportamenti dei cittadini la colpa della seconda ondata appare in alcuni momenti come una sorta di scarica barile da parte del governo perché non ci dimentichiamo comunque che alla seconda ondata ci siamo arrivati impreparati questo è di tutta evidenza non si tratta di avere un certo colore politico o un altro era stata preannunciata la seconda ondata ma non sono state predisposte tutte le attenzioni le misure che probabilmente nei mesi estivi il governo avrebbe dovuto apprestare e dunque è vero che alcuni cittadini non hanno seguito le regole ma ecco questo gioco e rimpallo di responsabilità a mio parere non concorre a un clima di fiducia e di condivisione delle scelte allora aspetti che Chiara voglio sentire cosa ne pensa il professor Richeldi guardi io ne penso che non c'è stato un paese che non ha avuto una seconda fase dell'epidemia quindi si possono dare tutte le responsabilità che si vuole forse diciamo si poteva fare meglio da noi in Inghilterra in Francia in Spagna però il fatto è che siamo di fronte a un virus che ha conseguenze molto gravi nelle persone vulnerabili che è altamente trasmissibile che è nuovo per il quale non abbiamo né un farmaco né un vaccino poi la situazione è questa quella in cui ci troviamo dire che siamo arrivati impreparati alla seconda fase allora vuol dire che siamo tutti arrivati impreparati alla seconda fase i giapponesi addirittura sarebbero impreparati alla terza fase in realtà quello che è vero è questo è un virus che si trasmesse con altissima facilità è altamente trasmissibile ed ha conseguenze cliniche gravissime e le persone vulnerabili quando si rallentano le misure che purtroppo sono misure che è l'unica misura che possiamo avere ora per ridurre la circolazione quello che succede è che aumentano i casi aumentano i contagi e aumentano i morti Telese e poi Paolo Mieli mi piace molto stasera il ragionamento di Lazzolini cioè io da mesi non capisco il senso del paternalismo virologico cioè se abbiamo fatto un po' meglio per esempio della Francia e se la seconda ondata era sicura allora la seconda ondata non è colpa di questi presunti bagordi degli italiani in vacanza abbiamo stigmatizzato condannato i focolai di responsabilità che però sono stati numericamente molto limitati e forse se uno dice non puoi andare a trovare tuo zio Donino ad Aless bisognerebbe dire ma quando la politica ha voluto le elezioni e ha convocato 10 milioni di italiani nelle cabine elettorali tutti insieme tutti toccando le stesse matite tutti frequentando le stesse stanze lo stesso seggio elettorale lì non c'è stato il discorso della responsabilità ricordo che Macron sospete il secondo turno delle amministrative quindi tutte le scelte non sono indifferenti quando mi dicono non puoi perché non sei responsabile neanche se fai due tamponi uno sei giorni prima per capire se sei in incubazione magari uno dopo cioè quando non mi dai una scelta sulla base della responsabilità ma mi poni un dogma allora io ti dico com'è che non hai pensato di sospendere le elezioni forse perché i governatori dovevano incassare i loro tributi elettorali non si possono usare due pesi e due misure in questa pandemia perché pagheremo il prezzo quando si diceva non chiuderemo le scuole quando il presidente del comitato tecnico scientifico dice le scuole possono stare aperte ma poi le scuole sono chiuse e i ragazzi in giro il pomeriggio vanno a contagiarci lo stesso a me sembra che non ci sia una scelta razionale allora Paolo Mieli parla di paternalismo virologico Luca Telese di non razionalità nelle scelte anche la dottoressa Azzollini ma ci possono essere sicuramente sono stati degli errori e no però le volevo aggiungere anche la la questione invece delle rivolte sociali no perché sono c'è chi fa questo pronostico io per esempio lei pensa che ci saranno io pensavo in quei giorni che ci sarebbero state delle rivolte cioè mi sono fatto molto suggestionare dal fatto che i primissimi giorni si ricorderà a Napoli a Torino a Roma e pensavo che questa cosa avrebbe avuto dimensioni ampie stavo lì incollato alla radio a sentire Napoli soprattutto mi ero fissato erano poi anche manifestazioni di protesta infiltrate io mi ero fissato che ci sarebbe stato e quindi mi fa piacere ammettere pubblicamente riconoscere pubblicamente questo errore quanto al discorso di fidarsi i punti sono due uno se l'80% degli italiani si comporta bene ma il 20% si comporta male è un disastro lo stesso non è una conta chi è buono e chi è cattivo il problema è metterci in condizione che nessuno possa tant'è vero ma come eviteremo l'esodo che è perfettamente legale non lo evitiamo cerchiamo la zona della Lombardia i Lombardi fuggono a Porto Rotondo come hanno già fatto a Napoli come hanno già fatto in Puglia come hanno già fatto quello come si evita perché è un esodo che sarebbe tecnicamente perfettamente legale allora ricordo furono 100 150 mila persone che sono numeri enormemente superiori a quella del Dombolone mi porrei il problema invece di sottolineare una contraddizione al posto è di risolvere di evitarlo ma come si risolve adesso lo chiederemo a professor Richeldi come si risolve io non voglio prendermi la responsabilità quanto al fatto che tu dici il 20 settembre si sono fatte le elezioni ma il 20 settembre la situazione era potevamo sperare che fosse molto diversa la campagna elettorale si è svolta in giorni in cui qualche minaccia si intravedeva poi sono d'accordissimo sia con Luca Telesi che con Vital Bazzolini che scusate non vi dico dottore professoressa non salto i titoli accademici sono d'accordissimo che non si può dare la colpa alle persone e probabilmente è stata anche enfatizzata la storia di questa estate io se dovessi centrare il momento in cui è stato commesso l'errore più grave è fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre quando gli altri paesi europei si sono messi a galloppare noi li vedevamo e invece di prendere misure abbiamo fatto c'era un decreto alla settimana i decreti di rincorsa allora quello è stato quella è stata una sciocchezza cioè fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre bisognava fare probabilmente il decreto che si fa il quinto quello che si è fatto alla fine e così facendo avremmo evitato probabilmente tutto questo pandemonio però non si può fare delle obiezioni a babbo morte lo chiedo però al professor Richeldi se è corretto il ragionamento di Paolo Mieli e che cosa bisogna evitare che cosa bisogna fare per evitare delle ondate di Lombardi che si riversano nelle seconde case in Sardegna in Puglia nel sud Italia era già accaduto lo ricordava Telese cosa si può fare per evitare perché ricordiamo fino al 20 dicembre ci si potrà spostare poi dal 20 dicembre al 7 gennaio finito il ragionamento di Paolo Mieli è corretto però in teoria è a posteriori cioè prendere un provvedimento tipo il quinto di PCM con pochi casi naturalmente avrebbe avuto delle conseguenze sull'economia sulle abitudini che non so quanto sarebbero state poi accettate o messe in atto però a posteriori in teoria lei ha perfettamente ragione magari ce ne faremo se ne farà tesoro per il futuro gli spostamenti chiaramente in questo momento non sono non è possibile spostarli voglio chiarire però che un nucleo familiare cioè marito e moglie e due figli che abitano a Milano e che vogliono trascorrere le vacanze di Natale stesso nucleo familiare in Sardegna non rappresentano un problema particolare il problema particolare viene rappresentato dalle persone non conviventi non normalmente conviventi che vanno e che espongono a un potenziale contagio soprattutto le persone vulnerabili che sappiamo benissimo chi sono e che si trovano a fare delle situazioni affollate assembrate in locali chiusi senza misure di protezione quelle sono i problemi non è il problema della singola famiglia che si sposta consapevolmente ragionevolmente coscienziosamente Lei come si organizza per il Natale? Guardi io ho parlato proprio l'altro giorno con mia madre che vive da sola a Modena perché io sono di Modena una persona anziana ma ancora molto lucida e abbiamo concordato che sarà il primo Natale in cui non staremo insieme e ha perfettamente capito che questa è una decisione fatta soprattutto per proteggere lei e io per tirarla su di Morare le ho detto che vedrai che faremo insieme il prossimo Natale il Natale del prossimo anno e lei mi ha detto ma chissà che non facciamo insieme invece la prossima Pasqua quindi speriamo che abbia ragione lei e quindi lei starà in un io starò a casa a Roma con mia moglie e le mie figlie nel mio nucleo familiare solito e lei dottoressa Zazzolini come si pensa di organizzarsi? Guardi in maniera totalmente conforme a quella appena spiegata dal dottor Richeldi quindi con le persone conviventi evitando di muoversi evitando di andare a trovare parenti lontani perché non è il caso di farlo e non perché lo dica un qualche DPCM ma perché è una sana regola di buonsenso e tu Luca? Io vorrei andare a casa ai palomieli con una bottiglia di champagne millesimato e senza mascherina però penso che siccome non sarei accolto diciamo abbracciamento resterò in famiglia non è vero io ho tre figli di festeggiarlo separatamente possibilmente con ognuno dei figli tanto ci sono dieci giorni a disposizione e il giorno di Natale mi piacerebbe trascorrere con Luca Tellese però io e lui da soli non che si porta presso quel caravanzo e raglio della sua famiglia quello no se lui viene da solo senza bottiglia quella te la offro io ecco ma comunque quindi lei vedrà i suoi tre figli separatamente senza fare cene senza fare assolutamente nulla che sia se due di questi figli hanno dei figli a loro volta se li devo vedere con i nipoti li vedo al bar così con le pascherine festeggiamo beviamo un bicchiere d'acqua minerale buonanotte insomma se questo è un campione questa sera che abbiamo trovato nel mio studio professor Richeldi passeremo un Natale diciamo tranquillo senza disobbedienza civile di nessuno io onestamente non credo che ci saranno delle disobbedienze civili abbiamo maturato un'esperienza e credo che abbiamo anche dimostrato di sapere prenderci le nostre responsabilità le misure sono chiare i giorni da rispettare con attenzione sono soprattutto quelli proprio del 24 del 25 del 26 di Capodanno che sono quelli più a rischio per quei giorni ci sono infatti delle misure più restrittive io sono convinto che riusciremo a superare anche questa prova sicuramente posso dire un'ultima cosa che quando lo Stato poi interviene il governo in quei modi io ricordo che questo è stato in un certo momento le discoteche le chiuse e non ci fu un'insurrezione in fondo la gente può vivere anche senza discoteche facendo la cena di Natale dalle 8 alle 9 e mezza tutto sommato non è la fine del mondo ci si può adattare forse è meglio per alcuni per alcuni forse è meglio vi faccio adesso vedere il punto di Paolo Pagliaro perché la pandemia ha portato con sé anche un incentivo allo smart ma di questa esperienza che cosa va salvato guardate per premiare i dipendenti in smart working che dedicano l'attività lavorativa agli spazi della propria abitazione il governo tedesco sta pensando di mettere ogni giorno 5 euro nelle loro buste paga è un'idea che fa discutere anche perché la Deutsche Bank a differenza del governo propone di tassare i lavoratori anziché premiarli dato che il telelavoro sarebbe un privilegio la questione è di grande attualità anche in Italia dove i sindacati chiedono che a chi lavora da casa sia riconosciuto il diritto alla disconnessione perché lavorare da casa stanca come recita la copertina del libro dell'editore Castelvecchi che l'esperto di comunicazione digitale Nicola Zamperini ha dedicato a rischi e opportunità dello smart working osserva Zamperini che la catena di montaggio digitale è impercettibile appare leggera quanto può essere uno smartphone di ultima generazione ma come la linea di produzione ottocentesca non conosce pause l'enorme esperimento sociale del lockdown ha lasciato molte persone sole e alle prese con le proprie incompetenze tecnologiche mentre molti si sono reinventati architetti designer manager dell'organizzazione senza alcun preavviso e senza alcuna competenza molti altri non sono riusciti in questa impresa non potendo far altro che constatare il proprio fallimento Zamperini li chiama gli esodati del digitale ma il suo non è un libro luddista anzi riconosciuti i vantaggi del telelavoro l'autore si limita a suggerire una serie di interventi per migliorarne la qualità tra le proposte c'è quella che tutte le piattaforme consentono di collegarsi da casa avendo alle spalle uno sfondo artificiale espressione di creatività ma anche espediente per non dover mostrare a chiunque la propria abitazione siamo in chiusura grazie Vital Bazzolini grazie professor Richeldi grazie Luca Telese grazie Paolo Mieli ricordo il suo ultimo libro che è in classifica già da varie settimane la terapia dell'oblio pubblicato da Rizzoli sottotitolo contro gli eccessi della memoria grazie spettatrici spettatori vi lascio al programma della rete noi come sempre ci vediamo lunedì 8 e mezzo arrivederci